Il Sager o mai chi ti ferma più? Ma non lo so, in questi giorni veramente mi va bene tutto, mi gira nel verso giusto e sono solo felicissima di poter essere qui e sciare bene Tracciati filanti, tracciati stretti come quello di questa seconda manche neve, molla, limite della Fradichat, comunque è forte Sì, dobbiamo dire c'era di tutto in questi giorni veramente è ancora meglio, posso andare bene veramente su tutti i tracciati al momento e come ho detto mi gira tutto, quindi anche tracciati, neve, robe varie, vanno bene tutto Bernard Schiel, un altro secondo giro qui in Paganella Difficulta scelta oggi? Sì, davvero difficile, ho fatto molti errori ma ho ancora venuto in seconda, quindi sì, sono ancora felice con questo Magari un po' di successo di iniziare la prima ruota con il numero uno Per sicuramente è stato molto bello, ma come Nisa ci ha mostrato, è anche possibile di skierare bene con 7, che sarebbe stato il miglior numero che ho avuto quindi sì, credo che la scelta è difficile oggi, più difficile di oggi ma ancora bene per la scelta Eva Maria Bram, third place in Paganella in Andal in the second race of Europa Cup Difficulte slope, difficult snow, are you satisfied? Sì, sono davvero satisfied, ho una difficoltà season con molti opzioni e più basi, quindi è stata una difficoltà e ho piaciuto perché erano due buoni e buoni giorni per me e mi piaceva il skierare con il bello bello e le persone belle e le persone, sì Grazie a tutti